Cari figli Pregate insieme, cercate il cielo, con la fede trovate il ristoro e zelo, con le vostre mani alzate a Dio, seguite la via del figlio suo. Nel silenzio del cuore ascolterete, la pace vera che tanto cercate. Pregate, 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 nel silenzio Lui vi parlerà. Pregate, 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 la pace vera vi troverà. Cari figli, pregate, pregate, pregate e il cielo pace vi darà. Cari figli, lasciate il dolore e vivete nel mio amore. Con il rosario tra le dita ritroverete la luce e la vita. Cari figli, pregate, pregate, pregate e il cielo pace vi darà. Cari figli, lasciate il dolore e vivete nel mio amore. Con il rosario tra le dita ritroverete la luce e la vita. Pregate, 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 nel silenzio Lui vi parlerà. Pregate, 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 la pace vera vi troverà. Cari figli, pregate, 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 la pace vera vi troverà. Cari figli, pregate, 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 pregate e il cielo pace vi darà. Oh, 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 oh Preghiera a San Giosafat Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen O San Giosafat, martire dell'unità e pastore fedele, tu che hai offerto la vita per riunire i cuori nella Chiesa di Cristo, guida anche noi alla ricerca dell'unità e della pace. Concedi il coraggio e la forza di seguire il tuo esempio, di amare e difendere la fede con amore e pazienza, per abbattere ogni barriera e divisione tra i fratelli. Intercedi presso il Signore, affinché ci renda strumenti di pace e verità, San Giosafat prega per noi e per tutta la Chiesa, affinché possa vivere in perfetta comunione e carità. Amen San Giosafat prega per noi e per il mondo intero. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo la preghiera dei defunti di oggi, 12 novembre 2024. La preghiera di oggi la dedichiamo a tutti i nostri cari defunti, alle anime del purgatorio, alle anime dimenticate e a tutte le vittime della guerra. A seguire, fratelli e sorelle, pregheremo le preghiere matutine a Maria nella memoria di San Giosafat, vescovo e martire. Grazie a tutti i nostri cari In diretta, trasmettiamo, la preghiera nel mese dedicato a tutti i fedeli defunti. Conduce la preghiera, fra Giovanni, aiutato dalla gioventù francescana. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 12 novembre 2024. Preghiamo la preghiera ai nostri cari defunti. La preghiera di oggi, come sempre, la dedichiamo a tutti i defunti, alle anime del purgatorio, alle anime dimenticate e a tutte le vittime delle guerre. Preghiera quotidiana in suffragio dei nostri cari defunti, condotta da Fra Giovanni e dalla gioventù francescana. Grazie a tutti i nostri cari defunti, Grazie a tutti i nostri cari defunti, Vi offriamo, o Eterno Padre, Padre delle Misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per le anime del purgatorio, il sangue preziosissimo uscito dal piede sinistro di Gesù vostro figlio, nostro Salvatore, e il dolore di Maria, sua madre amatissima, presente al Calvario. L'Eterno Riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Vi offriamo, o Eterno Padre, Padre delle Misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per le anime del purgatorio, il sangue preziosissimo uscito dal piede destro di Gesù vostro figlio, nostro Salvatore, e il dolore di Maria, sua madre affettuosissima, presente al Calvario. L'Eterno Riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Vi offriamo, Eterno Padre, Padre delle Misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per le anime del purgatorio, il sangue preziosissimo uscito dalla mano sinistra di Gesù vostro figlio, e il dolore di Maria, sua madre dolcissima, spettatrice addolorata sul Calvario. L'Eterno Riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Vi offriamo, O Eterno Padre, Padre delle Misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara, e per tutte le anime del purgatorio, il sangue preziosissimo uscito dalla mano destra piegata di Gesù vostro figlio, nostro Salvatore, e il dolore di Maria, sua madre dilettissima, spettatrice addolorata sul Calvario. L'Eterno Riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Vi offriamo, O Eterno Padre, Padre delle Misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara, e per tutte le anime del purgatorio, il sangue preziosissimo e l'acqua uscita dall'aperto costato di Gesù vostro figlio, nostro Salvatore, e il dolore di Maria, sua madre amorosissima, presente sul Calvario nel momento di questa apertura. L'Eterno Riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'Eterno Riposo dona loro, Signore, rispondendo per le anime di questa famiglia, l'annuncio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del Purgatorio, l'Eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'Eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'Eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del Tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la Tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il Tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente, perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere, perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i Tuoi consigli, perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni, perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia, finché mi abbia portato in paradiso, o ve loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che se il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esori figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi Tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del Tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Offerta della giornata a Maria O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai Tuoi piedi, mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle Tue mani e nel Tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo Tuoi nella volontà, nel cuore e nel corpo. Tu forma in noi, con materna bontà, in questo giorno, una vita nuova, la vita del Tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la Tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il Tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al Cuore di Gesù Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede Mio Dio, io credo in Te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una santa cattolica e apostolica. Credo che il Regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele, e che non verrà a meno neppure dopo la morte. Per questo, e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Mio Dio, propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più, e di fuggire le occasioni prossime di peccato, Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo, o Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre, il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del Purgatorio. L'eterno riposo dona a loro Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene. Ave Maria. Grazie a tutti voi, fratelli e sorelle. Grazie a tutti.